Nino Riva è il presidente della società San Vincenzo di Paoli che inaura questi nuovi locali oggi. Un modo per andare incontro alla gente, anche questo? Sì, sicuramente. Noi abbiamo trovato ospitalità e grande generosità da parte dei pari dominicani che ci hanno messo a disposizione questi locali. Li utilizzeremo per la raccolta e distribuzione di alimenti e per il vestiario e per quant'altro possa arrivarci da parte di privati, di attività commerciali e anche industriali. È un bisogno in crescita quello che si avverte da Cireale? Purtroppo sì, perché ormai i nuovi poveri aumentano in modo esponenziale. Ancora di più quelle che magari presentemente si trovano in condizione ottimale e oggi stanno subendo le conseguenze per la crisi odierna. Cosa si può fare per collaborare con voi, per avvicinarsi a voi? Basta aiutarci nella raccolta di questi prodotti, indirizzarci e trovare anche altri soggetti che possono aiutarci ad ampliare la gamma dei prodotti e tutto ciò che serve per le nostre finalità.